allora abbiamo preso un piccolo gecko adesso lo lascio non so se si riesce a vedere adesso lo metto qua al muro e carriaro e sua magna riposegnava è talmente piccolo come si vede male è terrorizzato è terrorizzato però adesso lo lasciamo non si stacca più e almeno si è morto ecco adesso piano piano se ne va oh il cuorello è tu no 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 e chi si è morto no e basta si è morto un piccolo gecko